con la pubblica amministrazione locale, anche in questo caso vedo colleghi in sala che partecipano al programma e anche in quel caso avere una fotografia precisa, perché il primo di questi interventi in ogni amministrazione dove siamo andati è stata quella o di fare noi o di chiedere all'amministrazione di fare un assessment della postura di sicurezza. Non parlo di un penetration test, parlo proprio di un assessment basato ovviamente sulle categorie del framework nazionale di sicurezza per andare a capire come effettivamente loro sono dal punto di vista della protezione rispetto alla cyber sicurezza configurati. Veniamo all'ultima parte della presentazione, quindi noi quello su cui riteniamo fortemente è che per tutto questo programma sia necessario spingere sulla valorizzazione del trasferimento tecnologico, cioè noi dobbiamo riprendere in mano